Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono qui a farvi questo video come sempre un po' di corsa perché vi voglio raccontare, non dell'ultimo arrivo perché non ho fatto acquisti in questo caso, però vi voglio raccontare di qualcosa che mi capita di avere per le mani in questi giorni. Ecco qui l'ospite di oggi, come potete vedere, come spero riusciate ad apprezzare bene anche in ripresa, abbiamo qui la splendida Sony Alpha con una lente Sony che è l'FE 2.8 2470 GM. Ora vi voglio raccontare innanzitutto come mai ho questa camera per le mani, perché come la maggior parte di voi già saprà, io solitamente scatto Canon. Mi è capitato di scattare con Nikon, mi è capitato di scattare rarissimamente con Fuji, non mi è quasi mai capitato di tenere in mano una Sony. Credo che questa sia la seconda volta in vita mia che ne tengo in mano una, purtroppo devo dire, perché sono delle belle camere. Ora si dà il caso che questo sia un noleggio, perché fondamentalmente un cliente ha richiesto un video, in particolare un video industriale, con delle prestazioni che vanno oltre la capacità della strumentazione in mio possesso. Parliamo in particolare di frame al secondo, quindi vogliono un video industriale con un altissimo frame rate e le mie fotocamere Canon non arrivano a 240 frame al secondo, per cui ecco che invece di scoraggiarmi o di dire al cliente che non ero in grado di farlo, gli ho proposto un'alternativa, gli ho proposto un noleggio con cui sarei stato in grado di portare a termine il lavoro. Il cliente ha consentito ed ecco dunque che io mi ritrovo per le mani questa camera che, devo dire, a primo impatto mi piace parecchio. Ci sono delle cose che non mi fanno impazzire, ve le dico subito, perché poi tutto il resto è smaccatamente positivo. Allora, cose che non mi piacciono è piccola per la mia mano, cioè come sempre, vedete, ho tutta questa parte di mano che eccede, che viene fuori, vedete? Cioè gran parte della mia mano esce dal grip, quindi la mia mano è troppo grande, ma sono sbagliato io probabilmente, non è sbagliata la camera, sono io che sono sbagliato. Diciamo che per me una 5D o una D850 di Nikon era perfetta, una camera grossa, a me andava meglio, mi trovavo bene. Le cose che non mi piacciono fondamentalmente finiscono qui, perché per il resto devo dire che grip che a me non piace esteticamente, ok? Il grip di Sony io l'ho sempre trovato brutto esteticamente. Ragazzi, è una roba pazzesca, non casca dalla mano neanche se la getti in terra. Ha un grip meraviglioso, quindi brutto quanto vuoi, almeno per me, magari c'è chi può trovarlo bellissimo. A me non piace, però cavolo, sta in mano bene. Altra cosa che devo dire, non mi sta dispiacendo per niente, il bilanciamento. Questa è una camera, come potete vedere, con un obiettivo molto grosso, per cui io da una camera come questa mi aspetterei che pesasse dalla parte della lente. Non succede. Io la tengo perfettamente ed è bilanciata al centro quasi. Si tende un pelino in avanti, ma pochissimo, quindi è veramente comoda da tenere in mano, a 24 mm perlomeno. Se andiamo a 70, li comincia a pesare un pochino di più, ma anche qui è una cosa da poco. Quindi, nonostante le dimensioni, perché questa è una lente gigante, però devo dire che sta in mano molto molto bene. È proprio un piacere tenerla in mano. Quindi da questo punto di vista, al punto di vista del design, non mi fa impazzire, ma dal punto di vista dell'ergonomia, ottimo lavoro Sony, perché è una camera che si fa tenere in mano alla grande. Andiamo a vedere le cose che mi hanno strabiliato di questa fotocamera, che, attenzione, essendo una mirrorless per me è una videocamera. Io l'ho presa per fare video. Questa è una camera che è stata pensata per videomaker, quindi cominciamo col dire che non la consiglierei a nessuno per fare foto. Cominciamo col dire che è una fotocamera da 12 megapixel. Come mai questa scelta? Perché si è cominciato proprio a pensare, ma tutti quelli che fanno un acquisto di questo tipo, fanno foto o fanno video? Il mercato ormai è orientato alla fotografia o al video? E se dobbiamo migliorare qualcosa, se dobbiamo migliorare le prestazioni di qualcosa, lo dobbiamo fare sulla fotografia o sul video? Ora, lungi da me dirvi che, per quanto riguarda la fotografia, siamo arrivati e non si può progredire oltre, perché non è così. Però, con le fotocamere di 20 anni fa già si faceva tutto. Quindi le fotocamere di oggi, per quanto mi riguarda, ci offrono delle comodità, ci permettono di fare meno fatica a fare le stesse cose che facevamo prima, ci permettono di fare meglio le stesse cose che facevamo prima, però non è che sia cambiato poi così tanto. Alla fine dobbiamo metterci noi la testa, il cuore, le capacità e tutto quello che ci si deve mettere per portare a casa la foto come si deve, però non è che tutta quella tecnologia ci cambi così tanto la vita. Mentre in ambito video, secondo me, ci sono ancora molte, molte cose da dire, perché quello è un ambito che era rimasto un pochettino più indietro e adesso si sta rifacendo sotto con, per esempio, tutti gli 8K RAW che stanno uscendo in questo momento, ebbene, Sony con questo modello fa una scelta di campo differente. Sensore full frame, quindi 35mm classico, però 12 megapixel. Questo significa una fotocamera che surriscalda di meno, nonostante sia capacissima di girare in 4K, non gira in RAW, non gira in 8K, non gira in 6K, gira solamente in 4K, però andrà a surriscaldarsi di meno e avrà una gestione del rumore e una gamma dinamica assolutamente senza precedenti. Questa è una fotocamera che ci regala, se ricordo correttamente, 15 stop di gamma dinamica. Questo è un sogno per un videomaker, perché questo veramente, a questo punto, mi consente di fare dei video dove riesco a mantenere i dettagli sia nelle alte luci che nelle ombre senza diventare matto, senza dover usare strane funzioni HDR che poi non si possono più lavorare perché sono già processate in camera. Mi consente di lavorare in formato log, mi consente di lavorare con dei codec pazzeschi che sono stati introdotti da Sony, mi consente di fare una cosa incredibile che io non avevo ancora mai potuto toccare con mano, ovvero mi offre la possibilità di registrare a 10 bit 422 direttamente in camera, quindi senza bisogno di memorie esterne. Questa è una cosa che è possibile fare anche su fotocamere che io possiedo, ma sempre con l'ausilio di memorie esterne più veloci. Infatti questa camera che ha, faccio vedere, un'altra cosa che non mi è piaciuta in realtà, le aperture sono poco intuitive per quanto mi riguarda venendo da Canon, quindi qui c'è un doppio movimento da fare per aprire il card slot. Io venendo da Canon sono abituato a un movimento unico, è una cosa a cui ci si abitua, non è una cosa grave. Quello che mi è piaciuto veramente tanto è che questa camera, oltre ad avere il doppio card slot, quindi i fanatici del doppio card slot saranno felici, io continuo a usare una sola card, non ne ho mai bruciata una in vita mia, non ho mai perso un file in vita mia, quindi sono sereno dal punto di vista, le userò due ma solo per avere più spazio. C'è il doppio card slot, la furbata di Sony, che Sony, devo dire, magari è un po' più indietro su certi aspetti puramente fotografici, proprio quanto riguarda la tecnologia, mette il sale sulla coda a tutti. Qui ha avuto la pensata geniale di fare un doppio slot, che però è duplice, cioè in questi slot entrambi può entrare sia una SD, sia una CF Express, e questa è la genialata, perché quindi con gli stessi card slot io posso usare delle memory card diverse, e le memory card diverse, le CF Express, servono proprio a lavorare con gli alti FPS, quindi a scrivere una quantità di informazioni molto maggiore alla norma in poco tempo, che è quello per cui ho preso questa fotocamera. In realtà io non ho chiesto di questa fotocamera, io ho chiesto al nolleggiatore che cosa aveva a disposizione, mi ha proposto questa e gli ho detto subito che andava bene, perché rispettava le caratteristiche di cui io avevo bisogno. Venendo da Canon vi posso dire che ho fatto un pochino di fatica col menu, ma semplicemente perché non lo conosco, è un menu nuovo a cui non sono abituato, quindi ci ho messo un attimo a capire quei due parametri che mi interessano, sono completamente diversi rispetto a dove sono ubicati dentro in un menu Canon, quindi si fa un attimo di fatica a cercarli, però un video su YouTube fatto da qualche collega che spiega quella cosa lì, oppure manuale, oppure qualsiasi altra cosa si trova subito tutto, quindi non è un vero problema. Ci avrò messo mezz'ora a capire tutto quello che mi interessava. Quello che mi interessava nella fattispecie era capire come si registrava a 240 frame al secondo, e ovviamente per fare i 240 frame al secondo ho dovuto impostarla in NTSC invece che in PAL, che era impostata in modalità PAL, quindi alla versione europea, invece a me serve il video versione americana per andare a fare i 240 frame al secondo, quindi prima cosa questa, e non l'avrei mai trovato se non fosse stato per un video di un mio collega su YouTube, che ringrazio, non mi ricordo neanche come si chiama, ma lo linkerò in descrizione o in card, giuro che me lo ricordo. La seconda cosa che ho dovuto fare è andare a scoprire quali sono le modalità che permettono di registrare con gli alti FPS. Ho scoperto subito che esiste una duplice modalità su questa fotocamera, in realtà questa è una cosa che mi ha un po' disturbato, e vi dico perché. Nel momento in cui vogliamo andare a registrare un video, noi impostiamo semplicemente la modalità video qui sulla nostra ghiera, quindi facilissimo, però se vogliamo registrare video con alti FPS è consigliato utilizzare la modalità SNQ, ovvero Slow and Quick, che è una modalità dedicata per fare questo giochino, ovvero per poter dire alla fotocamera io voglio girare in 240 frame al secondo, però poi voglio montare a 24 frame al secondo, per esempio. È il caso mio, io monto sempre a 24 frame al secondo, salvo richieste specifiche, i miei clienti non capiscono niente di frame al secondo, quindi non ci sono mai state richieste specifiche, io preferisco lavorare a 24. Quindi il mio output di destinazione è 24 frame al secondo, però io ho bisogno di 240 frame al secondo, quindi lasciando perdere shutter speed eccetera eccetera, che lo sapete già, ci sono mille video che parlano di questo. Il punto qual è? Su questa fotocamera se io voglio fare i 240 frame al secondo, gli devo dire qual è la mia destinazione, perché fondamentalmente la camera mi registrerà un filmato che sarà in 24 frame al secondo, quindi me lo darà già rallentato. Questa cosa, probabilmente Sony pensava di fare un favore a molti, perché pensava tanto lo rallenterete tutti. Invece no, invece non è detto, anzi la maggior parte delle volte io lo vorrei vedere a velocità normale, così come si svolgeva la scena, non già rallentato, perché se ho fatto un girato di un minuto e mezzo in slow motion e me lo devo riguardare, sapete quanto tempo mi va via e quanta batteria perdo. E poi anche quando mi trovo in post produzione a montare, devo stare lì a riguardarmelo tutto, insomma ci metto molto più tempo, mentre io magari volevo rallentarne solo un pezzettino, perché poi non si usa mai tutta una parte in slow motion, quindi se ne rallenta solo un pezzettino. Ora io forse mi manca qualche passaggio, perché comunque la noleggi lunedì, la usi martedì e la restituisci mercoledì, quindi non è che ho tutto questo tempo per imparare a usarla. Quello che ho capito è che così funziona, ho fatto i test e funziona, quindi la uso così. Diciamo che questa cosa non mi fa impazzire, perché mi dà già i filmati rallentati, io li avrei preferiti che scorressero a velocità normale, ma che avessero tutti i 240 o 120 frame al secondo a seconda di quello che imposto, invece qui mi restituisce un file che gira già a 24 frame al secondo, solo che io lo vedo già rallentato. Ecco, questa è una scelta che non mi fa impazzire, quindi questa forse è l'unica cosa che posso dire che non mi ha fatto impazzire di questa camera. Poi, sul risultato finale avrà effetti questa cosa? Assolutamente no, non ci sarà nessun difetto, non ci sarà nessun problema sulla resa finale, è solo una preferenza mia, un'abitudine mia se vogliamo. Passiamo alle cose che mi hanno invece lasciato a bocca aperta di questa camera. Innanzitutto giriamo in 4K con pressoché nessun crop, c'è un crop di 1.1 mi sembra, c'è una cosa ridicola, quindi va benissimo. Nel momento in cui andiamo a girare a 120 frame al secondo in 4K, devo dire che la messa a fuoco automatica comincia ad avere qualche problemino, però se la cava, siamo ancora lì. Inoltre abbiamo la possibilità di girare in log e con 15 stop di gamma dinamica, questa fotocamera fa veramente sognare, perché a livello di video e poi soprattutto registrando in 10 bit a 422, io vi garantisco che non ho mai visto un file d'uscita così bello, cioè file d'uscita da questa fotocamera è bello così. Io lo prenderei e lo stamperei così com'è, senza neanche toccarlo. Poi se voglio toccarlo posso farlo però, perché ho il log e perché ho il 422 10 bit, quindi lo posso pure maltrattare e anche parecchio volendo, ma non ce n'è bisogno perché è così bello già così quando viene fuori. Ok, il log no, il log ha bisogno di essere toccacciato, però è il minimo indispensabile, perché veramente è già molto molto bello così. Poi, molti dicono e hanno ragione che Sony pecca un pochino dal punto di vista della personalità magari, nel senso che sì, è vero, è un'immagine un po' digitalosa, ma questo è normale perché Sony ha una lunga storia di tecnologia e non ha una lunghissima storia di fotografia. Diciamo che nella fotografia e soprattutto nel video con fotocamera mirrorless, Sony è entrata non da tantissimo, cioè ci sono competitor che sono qui da 60 anni, Sony si è affacciata abbastanza di recente, mettendo il sale sulla coda a tutti quanti, certo. Però magari laddove ha un boost in più sulle cose prettamente tecnologiche, come possono essere sensori, punti di messa a fuoco, processori, magari su lenti e altre componenti dove può entrare in gioco anche un pochino di gusto cinematografico, color science, magari può avere ancora qualcosina da rubacchiare agli altri. Non che questa camera faccia delle brutte immagini, perché sono bellissime. hanno poca personalità e attenzione, questo potrebbe anche essere un punto di forza, nel senso che se prendiamo Canon sappiamo che abbiamo dei colori di un certo tipo, molto belli, se prendiamo Fuji sappiamo che abbiamo una camera con un po' di personalità, se prendiamo Nikon sappiamo che avremo un'immagine di un certo tipo, se prendiamo Sony potremmo non essere in grado di identificare la camera con cui è stato girato il nostro lavoro e questo potrebbe essere esattamente quello che vogliamo. Se vogliamo un'immagine flat, questa potrebbe essere assolutamente la camera che fa per noi, posto che questa è la camera che fa per chiunque, se vogliamo fare video di alta qualità, senza spendere tutte e due i reni, diciamo, perché questa fotocamera costa un rene e mezzo. Abbiamo qui per le mani una fotocamera che viene via, mi sembra, costa più di 3.000 euro il corpo e siamo sui 2.500 euro la lente. Quindi è una cosa veramente mostruosa come prezzi, almeno per quanto mi riguarda. Io di solito cerco di spendere 2.500 per un corpo macchina, non di più, e 1.500 per una lente, non di più. Diciamo che quello è un po' il mio limite, perché oltre non mi serve. Dimostrazione qual è? Il fatto che io faccio foto dal 2012 professionalmente, quindi sono 10 anni, sono 10 anni che faccio questo lavoro e questa è la prima volta che qualcuno mi chiede un video a 240 fps, è la prima volta. E quindi se ti capita una volta ogni 10 anni, quella volta ogni 10 anni, noleggi qualcosa che te lo fa, ma non c'è bisogno che te la compri, non c'è bisogno di comprare tutto. Infatti una camera come questa, ve l'ho detto, a me è piaciuta tanto, mi piace tantissimo, non ho intenzione di comprarla, perché non è che non me la ripago, però non mi conviene comprarla, perché dà troppo, ha troppe prestazioni rispetto ai lavori che io faccio, quindi è inutile che io affronti questa spesa per avere queste prestazioni, laddove poi faccio lavori che queste prestazioni non le richiedono, o comunque non le richiedono quasi mai, le ne sono richieste questa volta e questa volta è andata così, e quindi posso farvi vedere questo gioiellino. Vi faccio vedere a questo punto dei filmati di prova che ho fatto con questa camera, non posso purtroppo farvi vedere le riprese che ho fatto per l'azienda presso cui sono andato a svolgere il lavoro, perché c'è un accordo di non divulgazione, in quanto siccome è un'azienda, limitiamoci a dire che sta nell'industriale, ambito industriale, ci sono delle cose che non posso far vedere, quindi non posso farvi vedere niente di quello che è stato ripreso quel giorno, però non vi preoccupate perché ho fatto delle riprese apposta per avere qualcosa da mostrarvi di fatto con questa camera. Come potete vedere i colori sono belli, io questi filmati non li ho toccati, e questo non è log, non è niente, questo è filmato così com'era, ho ripreso dalla finestra dell'ufficio giusto per fare una prova, per familiarizzare con i comandi, questa è l'immagine non alterata così come esce dalla camera, secondo me la prima cosa che notiamo è che c'è veramente una gamma dinamica allucinante, è una cosa bellissima, cioè guardate la grana, guardate i colori, un'altra cosa per cui questa camera è rinomata e ha ragione, è che è una camera che tollera gli ISO alti in una maniera allucinante, e questo è dovuto al fatto che abbiamo un sensore grande con pochi megapixel, sapete che io sono fan dei megapixel in realtà, a me piacciono i megapixel, ma perché io sono un fotografo principalmente, faccio video, so fare i video, ho imparato, però ho imparato dopo, io ho cominciato facendo foto in un'epoca in cui i video non si facevano ancora, perché era presto, quindi io nascendo da fotografo, io penso prima di tutto, e nascendo come fotografo per la stampa, perché ho lavorato per delle riviste all'inizio, quindi io la prima cosa che penso è, voglio che la mia foto venga stampata in doppia pagina centrale, oppure in prima di copertina, un sogno quando ti stampano la tua foto in prima di copertina, vuol dire che sei stato bravo, quindi io penso a quello quando vado a scattare, e quindi penso io i megapixel li voglio, perché non voglio che la mia foto poi sgrani quando me la stampano grande, io voglio avere un bel 24-30 megapixel, sotto i 20 megapixel, io sento quella roba lì che dici, cavolo non sono a posto, non sono a posto, perché se me la chiedono per fare la doppia centrale è troppo piccola, quindi sì, la strecci, però in corto dici, porca vacca, poteva essere meglio, poteva essere meglio se solo avessi usato una fotocamera da 24 megapixel, da 30 megapixel che ho, e quindi ogni volta che non uso quella, un po' mi mangio le mani, quindi Sony Alpha 7S III, che cosa sei tu? Sei una fotocamera o sei una videocamera? Per quanto mi riguarda sei esclusivamente una videocamera, in quanto mirrorless non riesco a fare nessun'altra considerazione, perché per me le mirrorless servono solo per fare video, lo so che fanno anche le foto, però non è proprio cosa per me, non che le faccia male, però comunque con i megapixel così scarsini, io veramente mi sentirei in difetto a fare foto con questa camera, per quanto poi i colori e la gamma dinamica siano bellissimi, per carità. Io questa camera l'ho voluta fortemente per fare questo video, proprio per il gamut di colori che riesce a regalare, grazie a questo sensore gestito in questa maniera, per la gamma dinamica incredibile, e soprattutto per la furbata che ha fatto Sony di questa doppia memory card, quindi la memory card particolare, la CFexpress, che discende dalla compat flash, quella enorme che ormai non si usa praticamente più, perché è ingombrante, queste piccoline qui invece che sono piccole, sono grandi come una SD, costano una sassata, però, cavolo, permettono di scrivere a delle velocità che sono veramente proibitive, infatti, se ricordo bene, con l'Sd non si riescono a scrivere i 120 frame al secondo in 4K su questa camera, non sono neanche tanto sicuro che si riescano a scrivere i 240 in full HD. Per quanto riguarda i codec messi a disposizione di questa camera, ancora sono molto molto interessanti, perché abbiamo diverse modalità con cui possiamo avere file più leggeri o più pesanti, a seconda delle nostre esigenze, file più facili da editare o più difficili da editare, questa camera per esempio registra in standard H.265 oltre che H.264, ora, io non ho intenzione di provare l'H.265 su questa camera, perché ho visto da feedback di miei colleghi che questo H.265 poi è pesantissimo da editare, perché è molto compresso, quindi magari ti dà un file che pesa di meno all'inizio, però poi ci svieni sopra in fase di editing, io non voglio svenirci in fase di editing, quindi userò l'H.264 e vado via liscissimo così, e vi dico anche una cosa, io purtroppo, perché devo dire purtroppo, userò quasi esclusivamente il full HD, su questa fotocamera, perché al mio cliente interessano i 240 frame al secondo, neanche i 120, quindi vogliono veramente una velocità molto alta, che altrimenti avrei potuto azzardare che usavo la Canon EOS R e mi sembra che i 120 frame al secondo li faccia in full HD, non in 4K, quindi avrei potuto cavarmela anche così, però i 240 lì non ce la faccio con la strumentazione che ho, e quindi sono dovuto andare su questa, però qui non riesco a farlo in 4K, perché anche questa fotocamera non ci arriva a fare 240 in 4K, li fa soltanto in full HD, cosa che a me va benissimo, perché a questo cliente va benissimo, lo standard del full HD non ha bisogno del 4K, utilizzerà i filmati esclusivamente per web, quindi andranno compressi, magari saranno visti in 720, neanche in full HD, quindi va benissimo così. Cos'altro vi posso dire? Una cosa ve la posso dire, ho fatto degli esperimenti da casa, con questa camera, però non l'ho ancora testata veramente sul campo, perché la testerò domani, infatti sto facendo il video di corsa adesso, prima di metterla in borsa, perché poi domani la testerò sul campo, durante un lavoro vero, ho avuto mezza giornata per metterci le mani, di cui poi ho usufruito solamente per un'oretta, perché una volta capito come funziona, poi per quanto mi piaccia, ci avrei giocato volentieri tutto il giorno, però fotografarmi gli alluci semplicemente per vedere che funziona, non è una cosa che mi entusiasma, quindi a un certo punto ho detto, vabbè ho capito, lo metti via, e quindi detto questo, ho cambiato idea, sono pronto a switchare a Sony, vi dico la verità, non sono pronto, non sono pronto perché mi piace moltissimo Canon, mi piacciono i colori, mi piace di più l'ergonomia di Canon, mi piacciono di più i menu, mi piace di più la facilità d'uso che mi dà quando sto lavorando, e quindi anche se questa fotocamera ha delle prestazioni pazzesce, non passo a Sony per il momento, perché con Canon sento di avere ancora qualcosina di più per quello che faccio io, senza nulla togliere al fatto che questo è un mostro pazzesco, questa veramente è una Bugatti, è la Bugatti delle macchine fotografiche, delle videocamere mirrorless soprattutto, devo spendere due paroline anche sulla lente, perché io ho chiesto una videocamera, anzi, che mi consentisse di fare alte velocità, e ho chiesto anche una lente, che ho detto guarda, fai conto che io non abbia niente, mi serve tutto, quindi ho chiesto pacchetto completo, quindi devo dire sono anche stati bravi, perché mi danno tre batterie, due memory card, carica batterie, l'adattatore per la CF Express, che io non ho, perché io non ho altre CF Express, quindi veramente mi hanno dato tutto, valigetta da trasporto, la lente, questa è una lente, il 24-70 di Sony, questa qui è la serie alta, sono andato a vedere, perché io non conosco bene i prodotti Sony, sono andato a vedermi su internet, sono andato sul sito di Sony, questa è una lente che costa più di 2000 euro, costa 2005 se ricordo bene, e devo dire che tenendola in mano, un po' capisco il perché, innanzitutto, devo dire, dal peso è molto soddisfacente da tenere in mano, è molto bella da tenere in mano, di nuovo, il design non mi piace, ma ve lo giuro, non faccio apposta, il design non mi piace, sarà che sono abituato a Canon, però di design non mi fa impazzire, non mi dice niente, per quanto riguarda l'efficacia, io sono sbalordito da questa lente, sono sbalordito, e lo sapete perché? Perché questa è una lente furba, perché è una lente di un costruttore che si è reso conto che questa roba viene usata più dai videomaker che dai fotografi, e quindi che cosa hanno fatto? La vedete questa ghiera? Hanno fatto la ghiera grande, e non so se riuscite a vederla, guardate, se non riuscite a vedere la lente, guardate il mio dito, guardate com'è morbido questo movimento, questa è una lente che somiglia molto di più alle lenti cinematografiche che non alle lenti delle ormai vecchie fotocamere che avevano quegli anelli di messa a fuoco grossi, pesanti, pieni di denti, questa è morbida, soffice, guardate come gira, è morbidissima, e ho fatto delle prove, perché girando a 240 frame al secondo la messa a fuoco automatica non funziona più, questa è una cosa che potevo aspettarmi, di cui non sono soddisfattissimo, però ci può stare, lo capisco, quindi per quanto riguarda i 240 frame al secondo, penso proprio che dovrò giocarmela con la messa a fuoco manuale, cosa che si fa tranquillamente, perché c'è il focus peaking, a proposito c'è anche la zebra se qualcuno interessasse, c'è il focus peaking che funziona anche bene, quindi io tranquillamente metto a fuoco dove voglio, vedo molto bene il focus peaking che è accurato, quindi lo vedo bene, non è un grosso problema mettere a fuoco, ma io vi assicuro che quando ho fatto il mio test ho messo la mia mano sinistra sull'anello, ho provato a focheggiare, ragazzi è un burro, questa lente è un burro, è una cosa pazzesca, sembra fatta apposta per focheggiare a mano durante una ripresa video, e lo sapete perché? Perché lo è, esattamente, questa lente è stata pensata per questo e si vede, porca miseria, devo dire che non ho ancora avuto modo di provare tante lenti Canon della serie RF, perché praticamente possiedo solamente quella che sto usando in questo momento che è il 24-105, devo dire che ho provato a focheggiare a mano anche con questa lente che non vi faccio vedere adesso, c'è un altro video in cui ne parlo, ve lo linko in card, devo dire che anche Canon ha fatto un pochino questo step, quindi sono lenti più pensate proprio per l'ambito video, quindi anche Canon ha delle ghiere che sono migliorate rispetto al passato, ragazzi, sapete che amo Canon, sono onesto, non sono come questa, questa veramente mi ha sorpreso, e ripeto, non mi piace, non mi piace il design, non mi piace la forma, mi piace comunque come sta in mano, perché comunque sta bene in mano, non mi piace da vedere, ecco, ma quello poco importa, però come sensazione di messa a fuoco veramente impareggiabile, l'ho trovata veramente fantastica questa lente, poi è un 2.8, è una lente di indiscussa qualità, lens flare molto poco, precisa, nitida, quindi veramente, veramente una bella lente, sono sicuro che tirerò fuori delle cose bellissime che purtroppo non vi potrò far vedere, una cosa di cui vi parlerò in un video postumo è come mi sono trovato per quanto riguarda il flickering con luce artificiale, che è una cosa che, ve lo dico, mi spaventa molto, perché quando si gira a 240 frame al secondo non lo so se ci sono tante scappatoie di shutter per eliminare quel fastidioso fenomeno, quindi se qualcuno conosce una scappatoia che magari a me adesso sfugge con Premiere Pro, lasciatemi un commento, segnalatemela, perché darò sicuramente un occhio, perché nel caso mi dovessi ritrovare con delle riprese con un po' di flickering potrei dover andare a rimuovere qualcosina in post produzione, mi vengono in mente un paio di metodi, però visto che non faccio quasi mai slow motion in vita mia, non l'ho mai fatto fino adesso praticamente, quindi l'ho studiato, lo conosco, però se qualcuno di voi conosce una soluzione smart che io non ho ancora, qui non sono ancora arrivato, segnalatemela in un commento ve ne sarò eternamente grato, è anche possibile invece che io riesca a eliminare il fenomeno direttamente in camera, comunque una cosa che ho intenzione di fare è di portarmi delle lucette mie anti flickering, quindi visto che dovrò girare comunque con uno shutter abbastanza rapido, perché per girare a 2.40 dovrò stringere parecchio i tempi, quindi comunque mi porterò delle luci con cui spero di illuminare la scena con delle luci anti flickering, quindi di abbattere l'eventuale flickering rimanente dalle luci che ci saranno nella sala. Bene amici, direi che con questo è tutto, io e Sony Alpha vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video.